Visita oggi il mio nuovo store online www.xuder.it Tante magliette, felpe, prodotti stagionali e ad edizione limitata www.xuder.it mi raccomando e ovviamente codice creator XUDERONE E adesso video! Andiamo Sì ma dove c***o ci siamo infilati no Meglio andare sull'astronaia, venga sull'astronaia madre Sono sotto, sono sotto, sono sotto, sono sotto Sono sotto e non ho forze, li sto allivando tutto quanto Ho un tattico qua, qua una R Cioè allora c'è le armi figaro, è uscita una pistola white, la prendo? Può scendere da quella c***o di astronave? Sì vengo, vengo giù subito No 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 col c***o che mi faccio rapire nel minigame Non ci credo, no vabbè dai No vabbè raga Eh ho già capito che non va bene A me ne stavo andando cabbo Ascolti lei prende le sfere o prende il coso? Io grifo gli avversari Ok io prendo le sfere allora Allora io prendo il timer eh Ok Dai Non ho preso niente Ho preso io tranquillo No 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 lei prende, no no prenda le sfere cosa fa, cosa fa Non può sapere la strada che ho fatto io per i timer A me faccio quello che le pare Richie Andiamo, andiamo senza paura vai Ho preso un altro timer Fuxia Continuo a prendere i timer vado a prendere l'altra scheda Vai 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 Sì ma io lo preso Let's go Perfetto Easy Eh 2000 fucile Voglio un tattico Voglio che prendi la roba Non ti preoccupare di me Perfetto Preso preso Ah lo scar davanti l'ho perso Venga con me esattamente su questo ping Io sono atterrato sopra la torre La raggiungo immediatamente Io devo prendere la sfida in realtà L'ho fatto atterrare qua solo per questo Ma lei fa bene Anche io faccio così con i miei amici Io so che sono C'è un tizio qua che è dei nostri Ciao Pino 27 Ringraziamo i tattico 27 27 Ma chi sto sparando 27 Ucciso Ok Ma scusi lei va al giro senza una R Non ho bisogno di una R Quando siamo in due Rientro in gola col P90 E lo spaz Poi vediamo chi serve la R Bisogna di una mano Beh diciamo che c'è una strana Che mi sto sparando allegramente Un'astrona che sta sparando allegramente Sì venga Sparagli mentre andiamo Perfetto Dov'è? Però non l'è ex Però se lei Cos'è fatto di granito figa questa staccionata Di granito Vai qua davanti sopra mia destra Vai 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 Continua 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 Ok fatta cadere fatta cadere Ma che li pusciamo questi Preparato Porco Qua c'è Vabbè facciamo che prendo un AUG che non si sa mai Secondo lei è meglio si piglia la Raygun che è il cucina quello oppure il cecchino Ma non fa impazzire la Raygun Questi li abbiamo Demoliti questi raga Li abbiamo demoliti Briciolati Aspetta un attimo a creare armi Ok Quanto siate craccato distrutto 31 white Finisci Ho messo il muro Continuo continua No è meglio che vengo Jumpers Stai divanti Sono sopra di lei Uno giù Perfetto Arrivo per l'altro 60 Morto Sud è diventato un god Si fattono davanti gli spari in faccia nel senso che devo fare Mi viene in mente ancora la clip quando lei c'aveva il Cos'è che era Non so Quello col mirino Il fucile a salto col mirino che stava sparando al quartiere Esatto Che stava sparando al quartiere e gli viene quello da dietro con lo spas Si ricorda Oddio adesso mi sta un pochettino mettendo in difficoltà È una delle sue clip più viste Che lei c'ha il L'Aug spara sopra il tetto del quartiere Da dietro gli viene uno Ma veramente? Si si Dovrei guardarla perché non me la ricordo Oppure ce n'è uno che grida contro tipo una testa di un manichino Che cosa che era non lo so Ma perché? Che lei c'aveva Che lei c'aveva lì vicino una testa di un manichino Non so perché E muore e grida 40 headshot Andiamo Perfetto Andiamo 44 80 61 Ucciso Sono in 3.000 team Faccio un big 3 2 Ha tirato il cosi Mia mia sono fuori Sono fuori da quel cosa Anch'io sono fuori E' uno Exiuder Uno l'ho fatto giù Stiamo Guardigli Stieno quello che tolgo il bot sotto Ok se non ci rompeva le palle Sotto Sto facendo il big 3 2 1 Morto Perfetto Io avevo killato il suo amico Siamo ancora spottati eh Occhio occhio eh Sì sì Perché stanno Vado avanti 41 Continua Perfetto Lei ha preso l'aig Sotto E' che è pompato questo forte No Ma l'ho fatto Triple 20 blu 26 Con calma Lasciami perdere Non ti pensare a me E' qua sotto E' qua sotto Bravo Rest Si è preso una pompata Easy Io adesso ho matato 3 Eppure l'ho pushato forte Eh sì ho visto Ma perché io l'avevo rotto Non so lei Occhio Non stare fermo Lì c'è ancora il mattone Se la prende lei Andiamo Come in 6 24 Si stanno vedendo I due tipi Davanti a noi Ok Prendiamo da dietro Se riusciamo A noi Uno che vola Uno esatto Lascia perdere attenzione Sempre a quello sotto E ne ancora mi sa Sto arrivando da lei 25 white Usa la jump E ne ho una Tanto non lo useremo mai più Se vuoi la usiamo Vai vai push Quello che è white Super white Eh si è arrivato col cannone Easy Sono in due Eh vedo Faccio cadere tutto Porca miseria Ma sull'altra jump Calmo 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 Meglio stare qua a xudere Perché c'è altra gente F***a put***a Non lo prendo più C'è un fuori safe Non posso stare qua troppo Già abbiamo su quelli Vieni Ok Io la seguo E qua sopra Faccio cadere Venga giù Venga giù Fai quello che devi fare Ma che sia so che lui Cinquant'otto Ventisei Ucciso Occhio Chiuso io Chiuso io Tranquillo Sto al dando Sto al dando Sto al dando Faccio mini Adesso gli fa anche lei La chiudo io Venga Non ti preoccupare di me La reagan Cristo Morto Perfetto Compato Cannone Uno dentro Quarant'otto 135 Let's go Ok Penso che abbiamo tipo tutto leggendario E da prima Si manca Venga ok Quante kill Ma no 6 e 6 Anche 6 Bene buono buono Siamo 2 v 1 Qua sotto tra l'altro Cosa fai Ti nascondi nel Cosa che fa Invece spuglia Let's go Easy Perfetto 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 Perfetto